La verità è che tu vai avanti, mentre io per la prima volta in vita mia ho la sensazione di stare fermo. Perché sono io che ho la sensazione che mi sfuga tutto tra le mani, compresa te. Magari un abbraccio, un mi dispiace, sarebbe stato meglio! No, no, quella è autocomiserazione, io detesto l'autocomiserazione. Tu ci verresti in America con me? Ma che cosa farei io in America? Sarei soltanto tua moglie. Mi raccomando, fatti valere. Vuoi una storia seria? Sono la persona sbagliata. Che poi loro si innamorano. Io no. Grigia, io ti amo. Finalmente sarai la signora Conforte. Funzioniamo. Lo senti, lo capisci? Funzioniamo. Tu sei diverso. Cioè, appartiene proprio a un'altra categoria. Credo non esista un'altra competenza al mondo. Almeno io non l'ho mai vista. Sei anche l'unica con cui ho immaginato di poter vivere insieme.